If a person changes his religion from Islam to any other religion, the punishment should be execution, execution, death, death, death. Oggi nel mondo arabo non è la religiosità essere obbligatoria, ma la sua appartenenza. Non vi è nessuna alternativa, si può essere musulmani, come il 96% dei giordani, o cristiani. Per questo non è contemplata nessun'altra opzione. Si può essere pronti a farsi saltare in aria, morire e far morire decine di infedeli, per poi scoprire che quello per cui si era pronti a sacrificare la propria vita non era la via per la vita eterna? Che cosa succede nella testa di un adolescente destinato al martirio che scopre che quello per cui era pronto a morire era una grande bugia? Becker è tutto questo, un mentenne che due anni fa era pronto a farsi saltare in aria e oggi un secolarista atio, come ama definirsi lui. Beh, bene. Grazie a tutti